E' partito questa mattina il piano Scuole Sicure varato dalla Regione Campania e dall'Unità di Crisi Regionale e attuato con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'esecuzione che avviene su base volontaria dei tamponi rinofaringei a tutto il personale scolastico impegnato negli esami di Stato che a breve avranno inizio sul territorio regionale, sottoporre a tampone su base volontaria i componenti delle commissioni degli esami di maturità e il personale della scuola è un'iniziativa unica in Italia, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca e ha l'obiettivo di dare serenità alle famiglie, ai docenti e al personale. Un segno ulteriore di attenzione al mondo della scuola nell'ottica della sicurezza. Sono stati allestiti i checkpoint in tutte le province, ad Avellino presso il Campo Genova, a Benevento presso lo Stadio Vigorito, a Caserta presso il complesso fieristico, a Uno Expo di San Marco Evangelista, a Salerno presso la Clinica Salus di Battipaglia, presso il Palazzingaro di Sala Consilina, presso lo Stadio Arecchi di Salerno e al complesso fieristico di Vallo della Lucania. Per la provincia di Napoli invece sono stati predisposti quattro punti di prelievo per l'ASL Napoli 3 Sud, per l'ASL Napoli 2 Nord e per l'ASL Napoli 1 Centro. Nelle strutture seguite dall'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale del Mezzogiorno, solo nella prima parte della giornata di prelievi sono stati sottoposti a screening circa 2000, tra dirigenti scolastici, personale docente e personale non docente, ma i prelievi andranno avanti fino alle ore 20 e proseguiranno fino al prossimo 14 giugno.